Youngstar, l'orologio di Enrico Coveri ti ha offerto i Jefferson. Rete 4, la battaglia di Midway, con Herbie Fonda e Toshiro Mifune. Stasera, passa la tua serata tra amici. Benim Aftershave vi offre. Candy Camera Show è lo spettacolo della gente. Candy Camera Show è con Nanny Loy, le Candy Camera italiane, le Candy Classic e Candy Kids. Candy Camera Show piace e diverte. Candy Camera Show vi divertirà sempre di più. Parola di Jerry Scott. Questa sera alle 21.30 su Italia 1. La televisione deve essere di avanzata tecnologia. Deve essere molto affidabile. Deve essere fatta per durare molto a lungo. Ma la televisione deve essere per forza anche straniera? Oh no! Radio Marelli. Signore e signori, ritorna la grande televisione italiana. Radio Marelli. Scienza e fantasia italiana. Se vuoi partire bene con una colazione più ricca e completa, Kinder Colazione Più, con il valore di cereali, malto, latte, cacao. Sì, per una partenza alla grande Kinder Colazione Più, con un goccio di ferrocchino a bisleri, lui dice che si sente un leone. Io, con due gocce di ferrocchino a bisleri, dico che mi sento una domatrice di leone. Ferrocchino a bisleri. Una frustrata di vitalità. Mamme, ricordate, Linus Svelto ha tantissimo fluff assorbente. È vero. Linus Svelto ha tantissimo fluff. Per questo assorbe pipì normali, super e da campione. Linus Svelto. Nessun pannolino assorbe di più. Linus Svelto. Il pannolino approvato dai pediatri della Federazione Italiana Medici Pediatri. Se ami questa musica, devi saper tenere due dita sulla frizione. Sempre. Devi sapere scaldare le gomme. Devi sapere mettere mano al carburatore. Devi sapere tutto quel che c'è su Moto e Moto. Moto e Moto. Il fai da te. I modelli. La tecnica. Lo sport. Moto e Moto. È in edicola con una simpatica sorpresa. Moto e Moto. Io te la consiglio. Fabri Editori. Quel venerdì i signori Rossi entravano nella loro nuova casa. Una casa molto più interessante del previsto. Ma il signor Rossi sapeva che Super Attack è l'adesivo che salda all'istante un'infinità di materiali. Infinità di materiali. Un adesivo soprannaturale. Con Super Attack rimasero felici e contenti dentro la loro casa per tutta la vita. Un bellissimo regalo per te. Bella diventa più bella. Questa settimana ha solo 500 lire. Bello o no? Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è Impulse Enigma. Il mistero di una donna. Impulse Enigma. Parfum Doloran. Che regalo! Martedì dopo Dallas arrivano Dynasty e i Colby. Sì, proprio così. Martedì. Dall'8 marzo, martedì diventa la serata miliardaria della settimana. A J.R. si affiancano Alexis e Jason. Tutti nel segno amico di Canale 5. 20 e 30 Dallas. 21 e 30 Dynasty. 22 e 30 i Colby. Stasera che regalo su Canale 5. Se cominci con Oro Saiva, la vita è più leggera. Con Oro Saiva hai il gusto semplice delle cose vere. Oro Saiva, il buon biscotto leggero. Col suo profumo di grano e il modo più naturale di dirsi buon giorno. Se cominci con Oro i prodotti di Saliva. Grana Padale. Primo, secondo e terzo. Grazie. 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 Amaro Averna, il gusto pieno della vita. Ferrarelle è piacere sincero perché nasce sincera. È fervescente, naturale, senza neanche una bollicina aggiunta. Né liscia, né gassata. Ferrarelle, un frizzo di piacere sincero. Ferrare, forte e gentile. Le pizzette speciali si chiamano spizzette. Oh mamma mia, sposarsi che folia con le nuove spizzette della stuzzicomania. Margherita. Spio. Mi spizzica la spizzicomagia, spariscono spizzette. Melanzane. Spadaccini e spettinati aspettano spizzette. Ai ponghi. Ai peperoni. Ai peperoni. Oh mamma 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 mia. Spizzette, pazze pizzette in quattro gusti speciali. Della stuzzicomania. Spizzette, findus. Ci sono molti modi per chiudere in bellezza la settimana. Il nostro si chiama Raffaella Carrascio. Ci sono molte cure per scacciare i pensieri e stare allegri. La nostra si chiama Raffaella Carrascio. Viene anche tu a Raffaella Carrascio. Sabato a casa tua su Canale 5. Dico seta, vedo upim. Seta pura, costa meno. Dico fiori, vedo upim. È il momento. Vedo upim. Dico seta, vedo upim. Io mi vedo così. Questa è la solita carta per la casa. Questo è un prodotto nuovo e diverso. Facciamo un confronto un po' folle. Li mettiamo in lavatrice e li laviamo. Il prodotto nuovo si chiama Tutto. Assorbe come una spugna. Anche col detersivo deterge come uno straccio. Però poi si butta, come la carta. Vanno carta tutto. Bagnato assutto, lo usi dappertutto. Ma a proposito, questa è la solita carta per la casa. E questo è il prodotto nuovo e diverso. Tutto. Tutto chiaro, no? Silenzio! Quando uno ha mal di testa, ha un solo desiderio. Che gli passi in un momento. Qualcuno ha un moment? Sì, io! Contro mal di testa e nevragie, moment agisce presto. Dai laboratori farmaceutici Angelini. È una specialità medicinale da usare con cautela e non somministrare ai bambini sotto i 12 anni. Paolo, 14 anni. Un ragazzo fortunato perché può dire Mai avuto carie in vita mia. Da anni, Dentifricio McLean's lavora proprio per questo perché tutti un giorno possono dire Mai avuto carie in vita mia. Oggi McLean's aggiunge al fluoro il calcio in GP. McLean's è un passo avanti nella prevenzione della carie. Oggi è un buongiorno per l'igiene intima. C'è nuovo Lineslay, intimo, detergente liquido con dosatore. Buongiorno, donne. Lineslay. Fresco. Delicato. Profumato di pulito.